...errore, c'è il triplo mancio ora da fronte, con tranquillità, con i due diventieri, il triplo per entrambi, senza voler dire a persona, è superativo, non riesce a superarmi, invece ancora, viene l'azienda, nonostante il 1980, la traiettoria, riesce lì a guadagnare il verso basso del progetto, ...errore, il triplo di Brantinca, poi Lionel Mender, poi Arruf, Noi e Wolf, sono tutti molto vicini, racchiusi in uno spazio bravissimo, mentre McLelland, lì, ti tira giù il record dell'ultimo settore, non sapeva cosa fare, e ha conquistato il record dell'ultimo settore, McLelland, con il...